Buongiorno, è domenica, è già pomeriggio, siamo andati, stiamo andando al mare che oggi c'è le frecce tricolore e ho fatto un video di vi piace, lo guardate, buona visione. No, io non ci andrò mai. No, io non ci andrò mai, non ci andrò mai, non ci andrò mai. No, io non ci andrò mai, non ci andrò mai, non ci andrò mai. No, io 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 non ci andrò mai. Non ci andrò mai. No, io 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 non ci andrò mai. come on and go Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo penetranti dal mare e spero che obbligatoriamente vi piace il video di mettere 10 like o 10 mi piace. Buonasera.